Ciao a tutti, sono Marta Gallone, ho 30 anni e vivo a Roma. Vengo da esperienze lavorative in ambito prettamente teatrale, anche se studio recitazione cinematografica praticamente da sempre. Mi mantengo allenata attraverso la tecnica Strasberg e Meissner, che sono le tecniche che almeno su di me funzionano meglio al momento per lo studio dei personaggi e della sceneggiatura. Sono approdata al cinema un po' in ritardo rispetto ai miei coetanei, ma perché l'anno scorso ho vinto un provino casualmente per un piccolo ruolo nella seconda stagione di Bang Bang Baby, una serie Amazon, che purtroppo non è stata poi più prodotta, ma mi ha dato modo e mi ha dato la carica di dirmi ok, mi butto a capofitto anche in questo. Per quanto riguarda le mie capacità, studio canto da diversi anni perché sono in una famiglia di canterini, di musicisti, pratico diversi sport, pallavolo, nuoto, sci, equitazione e anche go-kart. I miei genitori mi hanno, come dire, assecondata in questa follia adolescenziale. Date la colpa a loro. Questo è tutto e vi ringrazio. Ciao!